L'accusa è di omicidio colposo a finire nel registro degli indagati presso la procura della Repubblica di Vallo della Lucania sono il sindaco di Camerota Antonio Romano, l'amministratore della società che gestisce la discoteca Il Ciclope e Lello Sacco e due tecnici, il geologo Antonio Gravina e l'ingegnere Gennaro D'Addio. I due professionisti, entrambi del casertano, da qualche anno venivano nominati da Sacco per effettuare un lavoro di monitoraggio della parete rocciosa da cui il lunedì notte, dopo un violento nubifragio, si è staccato il masso che ha travolte ucciso il 27enne Crescenzo della Ragione. Le informazioni di garanzia sono partite ieri pomeriggio dalla procura di Vallo e consegnate ai quattro indagati a chiusura delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Sapri, al comando del capitano Emanuele Tamurri e coordinate dal procuratore capo Giancarlo Grippo. I militari da lunedì notte hanno effettuato numerosi rilievi all'interno della discoteca, hanno raccolto le testimonianze dei ragazzi che erano presenti nel locale notturno al momento della tragedia e che hanno consegnato ai carabinieri un dossier fotografico nel quale vi sarebbe la conferma che sarebbe sparito il masso che ha ucciso Crescenzo. C'è l'indagine del 2011, aperta dopo il crollo di un masso, dinanzi all'ingresso della discoteca. Il materiale raccolto è stato chiuso nell'informativa che il capitano Tamurri ha consegnato al procuratore Grippo a chiusura della fase investigativa. Per tutti gli indagati l'accusa è di omicidio colposo. Il sindaco romano, quale massima autorità di protezione civile, non ha verificato se sul costone roccioso che insiste sulla discoteca e il ciclope venivano eseguiti i necessari interventi di monitoraggio e messa in sicurezza al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini. Il sindaco era a conoscenza dello stato di precarietà in cui versa la struttura, costantemente veniva informato anche dall'autorità di Bacino. Lo confermano le carte, tra cui non poche relazioni sullo stato di pericolosità della parete rocciosa rinvenute dai carabinieri. Tutte le carte confluivano al comune. Romano era tenuto ad intervenire e garantire la messa in sicurezza del costone. Crescenzo della ragione non ha avuto scampo. Lunedì notte è morto sul colpo sotto il peso di un masso che è improvvisamente crollato da un'altezza di circa 60 metri. Insieme al sindaco, a finire nel registro degli indagati, l'amministratore della società che gestisce la discoteca e i due tecnici. Sacco, con il concorso dei due professionisti, ometteva di effettuare le previste verifiche sul costone roccioso. Non si occupava di controllare, come previsto nel contratto di concessione, che la parete rocciosa venisse costantemente monitorata e messa in sicurezza. Nella documentazione rinvenuta dai carabinieri, era prevista la presenza fisica dei due tecnici Gravina e D'Addio in occasione delle serate di apertura della discoteca. Avrebbero dovuto garantire un presidio di controllo.